ciao bimbi ciao ciao a tutti allora siamo ancora qui nella biblioteca della maestra elisa però oggi come potete vedere c'è un amico che cos'è lui ma ho sentito bene è un maialino un porcellino ma voi lo conoscete questo porcellino questo porcellino ma sarà mica lindo il nostro amico porcellino lindo del libro proviamo a chiederglielo lindo ma sei proprio tu ma è lui ha letto di sì ne ha detto proprio di sì e oggi insieme vogliamo leggere la storia la sua storia soprattutto in questo periodo dove la mamma il papà ci dicono di lavarci tanto le mani tanto tanto le manine e sentiamo che cosa ci vuole dire l'indo l'indo porcello pronti l'indo porcello l'indo porcello oggi si fa bello è tutto pulito tutto profumato l'indo porcello mangia la torta al cioccolato l'indo porcello fa un bel disegno colorato l'indo porcello con la sabbia fa un castello tutto dorato e voilà Splash! Lindo porcello con la bicicletta nel fango si è lanciato. Lindo porcello è tutto sporco, è tutto inzaccherato. Lindo porcello è di nuovo tutto bello, tutto pulito, tutto profumato. E ora giochiamo! Bravi bimbi! Abbiamo letto la storia di Lindo porcello che si lava tutto e fa tutto il bagno. Però gioca e si sporca, come facciamo noi all'asilo. Ma una volta che ci si sporca, che cosa si fa? Ci si lava le mani. Alla prossima dalla vostra maestra Elisa. Ciao, ciao a tutti!